Presentate stamattino ufficialmente dalla società di gestione dell'aeroporto Piola Torre le nuove rotte in partenza dello scalo casmeneo. A partire da giugno si aggiungeranno due nuovi collegamenti per Parma e Bergamo. Ad operare le nuove tratte il tour operator Tourgest e officine del turismo. Le indiscrezioni circolavano già da alcuni giorni. I biglietti per i voli sono infatti già stati messi in vendita sul sito www.tourgest.com. Si tratterà di un volo settimanale il giovedì per e da Bergamo or al serio. Il sabato per e da Parma. Ad operare i voli sarebbe la mistra Leir, la compagnia del gruppo poste italiane. Il primo volo per Bergamo partirà il nuovo giugno, mentre l'inaugurazione della tratta verso Parma è prevista l'11 dello stesso mese. Un altro passo per il Piola Torre che aumenta l'offerta e punta a incrementare sempre più il traffico passeggeri.